avventure fino alla fine del mondo creature mitiche straordinarie colossali battaglie tra il bene e il male cosa avrebbe potuto aspettarsi di più un lettore infatti le cronache di narnia rappresentano un capolavoro che va oltre la classificazione del fantasy e rientra del diritto tra i classici della letteratura inglese del novecento l'autore noto medievalista dell'università di oxford mette nero su bianco una surreale quanto iconica girandolo di personaggi fauni ninfe streghe animali parlanti eroici guerrieri con un ritmo incalzante dell'avventura che inchioda il lettore alla pagina dopo il signore degli anelli di tolkien ecco un'altra pietra migliare della letteratura mondiale che affascina e fa sognare